Arcanic to see you, rider and owner Gianna Marco Marchetti che corre per Machia Capitale. Ok. 3, 1. Con calma, come sempre. 3, 1. Ok. Tranquillo, un po' di passo, lo prepari e parti, lascia andare. Schimp TT. Tendo esoten la zona. Perch almost no la forma. Send ins. Ok. E nulia Wagezji. Oh, nulia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lascialo così, lascialo così, aspetta, 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 poi. Grazie. 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 Grazie.